ciao amici bentrovati sul canale benvenuti in un nuovo video quest'oggi vi voglio mostrare questo mini abito del brand vicolo che si presta moltissimo all'arrivo abbia basso un po all'arrivo della primavera allora si tratta di un abito con disegno geometrico che va dai toni del viola nero e questo verde verde acqua oserei dire l'abito presenta la manica stavate già vedendo la scarpetta la manica diciamo tre quarti e è un abito davvero mini mini che cosa ho deciso di indossare insieme a quest'abito ho deciso di indossare un paio di calze molto molto velate un paio di calze velate 15 denari e di andare ad indossare questi super tacchi queste decolté di l'autre shoes con questo tacco super super sottile che mi piacciono davvero davvero tantissimo ora io mi sposto di qua e vi mostrerò appunto queste sono le calze mettiamo l'altra scarta e ora vi faccio vedere il risultato nel suo complesso ok questo è l'abito come potete vedere è un abito davvero davvero mini ma è molto bello sia per questa stagione magari mettendo un più meno un po più pesante o magari mettendo un cardigan sopra o un cappotto ancora più pesante ma è molto bello anche per la stagione primaverile in questo caso io sono andata ad indossarlo via basso sono andata ad indossarlo con con un paio di di tacchi ma nulla toglie che quest'abito possa essere tranquillamente vedete tranquillamente indossato anche con con una scarpa decisamente decisamente più sportiva con una giacca in pelle per andare a sdrammatizzare il tutto l'abito è molto molto carino con questo effetto appunto geometrico è una è un abito che fascia molto bene la figura vi abbasso un pochino in modo in maniera che voi possiate magari vedere meglio come sta nel complesso con le scarpe ecco così lo vedete io sotto ho messo una sottovestina di cui spunta lievemente il pizzo proprio perché l'abito molto 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 corto ma detto questo è un abito che mi piace mi piace tanto mi piacciono soprattutto i colori i colori mettono di buon rumore un micro abito adatto appunto per la primavera che ha le porte e nulla detto questo io vi saluto vi ringrazio un bacio a tutti alla prossima io vi saluto io vi saluto